L'ora è scoccata e su canale 5 ritorna la Champions League. La sfida ha un destino che non si può cambiare, entrare negli annali del calcio nerazzurro come lo scontro più emozionante della stagione. Dal mitico Old Trafford di Manchester, Manchester United Inter, gara di andata dai quarti di finale di Champions League. Domani alle 20.30 su canale 5. Venite ragazzi, questa è la mia collezione. Bella! Quella è un geode. Questa cos'è? Quarzoialino. Che belle, ma dove si trovano? I tesori che ho trovato in tutto il mondo, ora sono qui. Minerali Collection. Con ogni fascicolo, minerali, gemme e pietre preziose per una collezione che è un vero tesoro. Minerali Collection. Con la prima uscita, l'occhio di tigre. E l'oro 24 carati! Minerali Collection. Inedicola a 2.900 lire. Fabri Editori. Dav è fatto di sostanze detergenti neutre e di un quarto di crema idratante. Dav non secca la pelle come un normale sapone. Ciao fratellone! Fratellone! Non farmi ridere, io sono a latte fresco. Ce l'ho anch'io! Kinder fetta al latte. Una merenda al latte. Ok fratellino, d'ora in poi io a colazione e tu a merendo. Kinder fetta al latte. Latte da morte. A tutto vapore contro le pieghe più difficili. Roventa crea il nuovo professional. Il ferro professionista che stende le pieghe. Con la sua piastra inoxer glide e la potenza del super vapore, tutto fila perfettamente liscio. Nuovo professional Roventa. Roventa, per chi non si accontenta. Mi piaci. Ti voglio. Sembra incredibile ma sono cotta di te. Con Dado Star le scaloppine sono un'estasi di sapore. Dado Star dà più gusto al sapore. Mi piaci. E da oggi sui funghi aggiunge un pizzico di sapore all'aglio e prezzemolo. Nuovi insaporitori alle erbe Star. Nestlé Grand dessert presenta la coppa al cioccolato, fatta di cioccolato e tanto latte, che diventano una morbida crema guarnita con delicata panna montata. Nestlé Grand dessert così buoni che li mangi con gli occhi. E prima che vada a Ruba, prendi al volo l'offerta speciale. Questo è un telefono fisso Wind. Questi due telefonini Wind. E tutti e tre parlano tra loro con Noi Wind a sole cinque lire al secondo, tutto compreso. Provate il servizio Noi Wind fino al 31 maggio 99 e gratis. Wind ti conviene parlare con Noi. Oh, questa è la famosa torre di Pisa. Mol' inclinata. Ci sono 294 scalini. Mol' faticoso. Saliamo. Su, vi verrà offerto da bere. Mi sentito. Pedro, esto es estate. Seguro, es estate. Si sente quando è estate perché ha un gusto irresistibile. Mi gusta la vista? Me gusta, me gusta. Si sente quando è estate. Giù la maschera, Ugo. Il vero cacciucco. Oggi si pesca con buitoni. Direttamente dal freezer. Una zuppa di pesce a regola d'arte. Fermo lì. È pronta in pochi minuti. Giusto il tempo per metterci i crostini di pane. Cacciucco buitoni. Dove la vai a pescare una zuppa così? Buono sto cacciucco, accidenti. L'abbiamo pescato tutto a noi. Tu sei il prece palla. Piatti. Basta. Ecco la soluzione. La nostra nuova lavastoviglia Tecna. Una meraviglia. Come ti? Guardare per credere. Nuova Tecna di Rex. Ancora più Tecna. Il pomodoro più buono è quello colto e preparato in giornata. Come il pomodoro star che è colto al mattino viene subito lavorato e preparato delicatamente in poche ore. Così quando lo apri ritrovi tutto il profumo e il sapore del pomodoro appena colto. Pomodoro star colto al mattino pronto alla sera. Guardi un po' cosa si sono inventati. Filadelfia snack. Ha visto? Il grissino affonda nel Filadelfia. Sole? E poi si rituffa. Mmm buono. Capito? Un nuovo snack. Lo provo. Primo o poi. È arrivato Filadelfia snack. Un piacere senza confronti. Andiamo a casa va. Tanto l'autobus non passa mai. Facciamo una pausa. Puoi fermarti adesso. E chi ha detto di fermarsi? Tronchi. Lo snack è così pratico e veloce che ti puoi prendere una pausa anche quando non ce l'hai. Tronchi. Fuori croccantissimo, dentro morbidissimo. E con Tronchi. Inciabbonamenti per due in tribuna per la tua squadra e Miniradio Philips. Lo so!